Continua Soverato e continua alla grande perché è arrivato il Motor Show, Nitro Bizzarro Motor Show, uno spettacolo emozionante che si svolgerà davanti al Palascoppa. Noi siamo venuti a curiosare qualche ora prima dell'inizio di questa manifestazione, abbiamo Susi Minetti che rappresenta appunto il team Bizzarro. Benvenuti a Soverato, cosa ci farete vedere? Faremo vedere uno spettacolo adrenalinico di auto, moto e camion, testa e goda sincronizzati, macchine su due ruote, effetti cinematografici e quad e il camion su due ruote che è il nostro biglietto da visita. E noi vediamo qui dietro anche un camion di quelli all'americana che si incontrano sulle strade statunitensi, insomma uno spettacolo per grandi e bambini. Sì, per tutte le famiglie, grandi e piccoli. Come avete trovato Soverato? C'è qualche nuvola ma voi farete arrivare il sole? Abbiamo trovato Soverato, abbiamo deciso quest'anno di girare qui, girare tutta la Calabria, veniamo dal Tirrenio, ci siamo spostati qua sulla Ionica e Soverato, il bizzarro team è anche un po' conosciuto perché sono 30 anni che manchiamo di qua a Soverato, anni indietro uno spettacolo di generazione, tramandato da padre in figlio, mio suocero fece più di 30 anni fa a Soverato, abbiamo deciso di ritornare dopo 30 anni a Soverato che è suo figlio Davide Bizzarro e Patrick Bizzarro, che continuano con la generazione, siamo la seconda generazione che viene qui a Soverato dopo 30 anni, siamo arrivati alla terza però sono ancora un po' piccini quindi per il momento continuano la seconda generazione finché ci sarà la presenza del pubblico noi continuiamo con questo spettacolo di stuntman. E quindi macchine, motori, stuntman è tutto sicuro? Sì, tutto in sicurezza. E soprattutto vorremmo sapere se ci spoilera qualcosa, qual è il momento più emozionante dello spettacolo? Quello che vale la pena sedersi sugli spalti e godere? Il momento più emozionante che non è da tutti i giorni, io presento lo spettacolo, sono anche la speaker e il momento più adrenalinico che la gente rimane a bocca aperta è il camion su due ruote che Davide Bizzarro è uno dei pochi in Europa ancora ad oggi ad eseguirlo. Esegue anche il camion nel semirimorchio, qui la pista non ce lo permette, però non volevamo mancare dopo 30 anni e ritornare qui a Soverato quindi siamo tutti lo stesso. Il camion su due ruote rimane la gente a bocca aperta perché non è da tutti i giorni vedere un camion su due ruote, 6 tonnellate, tenere in equilibrio una forza incredibile. Dal 7 all'11 ma sono più spettacoli? Tutti i giorni, l'unico spettacolo 21 e 30 e sabato e domenica facciamo anche lo spettacolo 18 e 30 e 21 e 30, due spettacoli. E allora approfittando della sua cortesia la conclusione la chiediamo alla speaker, come inizia lo spettacolo la speaker, che grido lancia al pubblico? Se sono pronti ad assistere al nostro spettacolo coinvolgiamo anche il pubblico con i loro applausi così loro più applaudiscono e il nostro team è più carico con i loro applausi guardando varie esibizioni.